Tra Conte e Grillo oggi a chi ti senti più vicino? È molto difficile da dire perché i due non hanno una questione politica, hanno una questione di potere ed è incredibile perché Grillo dovrebbe essere l'azionista e Conte l'amministratore delegato se vogliamo usare un termine aziendale, ma lo stipendio di Grillo dipende da Conte e invece dovrebbe essere viceversa. Questo sta creando, non so se è l'ultimo atto del Movimento 5 Stelle, ma lo ha portato a livello più basso e mi dispiace per le posizioni perché io avevo provato il più possibile a portare il Movimento sul filo atlantismo anche una posizione più bilanciata su Israele contro l'uscita dall'euro a favore dell'Unione Europea e abbiamo preso il 33% nel 2018. Adesso sembra essere in atto un ritorno indietro alle posizioni di 15 anni fa. Non so se è giusto o sbagliato, ma stanno al 9%.